La famiglia di mia madre produceva coperte. Mio papà vendeva telai, si sono conosciuti, è nato quest'amore e di conseguenza la nostra azienda. Lei è Mare Grazia che si occupa della vendita online. Lui è Raffaele, il nostro burocratore. Va la vola, eh! E lui, il più piccolo, è Federico e si occupa delle spedizioni. E poi ci sono io, Lorenzo, che faccio un po' di tutto. Da qualche anno noi fratelli abbiamo preso in mano le retini dell'attività. Da quasi 40 anni la nostra azienda produce tessile per la casa, come piumini, lenzuola, tovagliato, tendaggio e tanto altro. La crisi del 2008 ha portato grandi scompensi nel nostro settore. Per non chiudere abbiamo deciso di cambiare il modello di business portando la produzione in valle seriana a vantaggio della qualità dei nostri prodotti e iniziando a vendere online, in particolare con Amazon. La vetrina Made in Italy di Amazon ci ha dato grande visibilità aiutandoci a mostrare la qualità dei nostri prodotti e a distinguerci dalla concorrenza. Con Amazon condividiamo l'importanza del cliente e la sua soddisfazione. Anche per noi il cliente è al centro di tutto. La relazione umana è molto presente anche online. Grazie ai contatti e alle recensioni dei nostri clienti abbiamo iniziato a sviluppare prodotti seguendo le loro esigenze. L'obiettivo per il futuro è sicuramente espanderci nel mondo e sappiamo che con l'online possiamo farlo. Sono veramente orgoglioso del lavoro fatto fino ad oggi, della rivoluzione che abbiamo compiuto qui in azienda ed è la passione che io e i miei fratelli ci mettiamo ogni giorno.